Clizia e Eleonora Giorgi sono stati ospiti sulla RAI e hanno parlato del piccolo Gabriele. Io vado a cambiarmi e tolgo le mie amici. Stavo pensando che con lei abbiamo sfatato la cosa con il mostro di mia suocera. Assolutamente no. Anzi stavo pensando dovremmo girare un nuovo film che è la mia suocera e la mia complice. Almeno sfatiamo questo discorso della malasoggira, in dialetto dicevamo così, ma la malasoggira, la scattiva suocera. Clizia rientrata a casa si guarda il suo bambolotto Gabriele, poi ci racconta del suo rapporto con Eleonora. Grazie.